Ho fatto tutto, mi manca la torta. Sì. Come ti chiami? Mavi. Hai chiamato poi quella dell'incidente? No, ancora no. Ho incontrato una. Una chi? Una. Quando ci vediamo? Se mi va ti chiamo io. Che fai? Guardo la mia famiglia. Non ti sembra giusto che un padre venga a sapere queste cose da Caterina? E volte la notte il resto sveglio, aspetto. Che tu avrai quella porta. Caterina ha mangiato? Non lo so. Che vuol dire non lo so? Ha mangiato sì o no? Leo! Capito papilla! Devo chiamare una bambina! Caterina sta con me e quando stai meglio te la faccio vedere. Ciao amore. Tu pensi tutta la rovescia. Non è perché mi ami. Io ti odio. Sei tu che pensi alla rovescia e lo prendi come amore. Mi... Ehi. Mia. Grazie a tutti.